Non è stata una partita come le altre quella tra gli allievi regionali delle formazioni di Olmo Ponte e Santa Firmina. Piuttosto un allenamento tra gli amici e compagni di scuola di Francesco Renzetti, il 17enne scomparso prematuramente in seguito ad un incidente stradale lo scorso aprile. I ragazzi di Olmo Ponte e Santa Firmina hanno voluto dedicare questa partita a Francesco con lo sport che più amava. Presente in tribuna anche i genitori, ai quali i capitani delle due formazioni hanno donato un mazzo di fiori e una maglia con il numero 2, la stessa utilizzata dal terzino che aveva militato nel Santa Firmina prima di passare all'Olmo Ponte. La famiglia prima del calcio d'inizio ha voluto ringraziare i ragazzi, primi promotori di questa iniziativa, ma anche gli allenatori e dirigenti delle due società. Le offerte raccolte nel corso della partitella saranno devolute dalla famiglia di Francesco alla fondazione Niccolo Galli. Grazie.